Un 29enne cittadino romeno, M&M e le sue iniziali, è stato bloccato alla guida di un'autovettura rubata ieri mattina a Fernetti dagli agenti della Quarta Zona Polizia di Frontiere, settore di Trieste e dal personale della locale polizia stradale. L'uomo in procinto di lasciare il paese per rientrare in patria è stato controllato nell'ambito delle consuete attività di contrasto alla criminalità transfrontaliera. Dagli accertamenti è emerso che l'autovettura condotta dal comunitario, già conosciuto dalle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, era stata rubata lo scorso novembre in provincia di Como. M&M, che non ha saputo fornire spiegazioni plausibili sul possesso del veicolo, è stato sottoposto a fermo di polizia per la ricettazione, mentre l'autovettura è stata sequestrata per essere affidata al deposito giudiziale. Il cittadino romeno, che è stato anche denunciato per guida senza patente, si trova ora nel carcere di Via del Coroneo, a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente.